Ho quasi non le parole per riuscire a dover dedicare questa serata e questo prossimo canto ad un'amica comune a tanti noi cittadini bergamaschi e anche a tanti miei amici colleghi di questa sera e proprio per questo vorremmo dedicare a Silvia Infascelli che troppo presto ci ha lasciati questo canto ma con grande gioia perché ne ha trasformata tanta, ne ha regalata tanta ed è stata una grande, oltre che amica, una grande artista pura fino agli ultimi suoi respiri e questa sera assolutamente con grande gioia però vogliamo ricordarla e chiedo un grandissimo applauso per questa magnifica persona che rimarrà sempre nei nostri cuori, forte, forte da tutte. Grazie. Grazie 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 Frutus ventrisi di Gesù Santa Maria Santa Maria Maria Ora pro nobis Nobis peccatoribus Nung e tenora e no Ora mortis nostri ame Nobis peccatoribus Santa Maria Vecchia 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.